con la nuova società preseduta dal presidente Donato Macchia. Cioè la pioggia, conserviamo il nostro clima. Tra poco a seguito, e in modo particolare ancora, Giacchè sceglie di avere un filo che usciva fuori dalla sua dena. E dice che fuori questo filo lo vado a tagliare. Grazie a tutti. Salvatore, il numero 9, Salvatore, 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 Caturano. Salvatore, 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 Salvatore. Salvatore, 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 Salvatore. Salvatore, Salvatore, Salvatore. Grazie. 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 Grazie.